Allora, ben ritrovata a tutte carcasse putrescenti sugli schermi e sulle casse di Carcassa, il podcast horror che ha al massimo rispetto per le persone anziane, e infatti con noi c'è anche il nostro Simone. A proposito di persone anziane. Io sono Jack, appunto, come ho già detto, c'è Simone, il portatore di luce, e sotto di noi c'è il caro Nick. Ciao a tutti, chi non ci guarda live si perde, infatti devo andare dal parrucchiere, sto facendo concorrenza a Jack. Tra l'altro sono vestito di nero per uniformarmi all'atmosfera politica e giuridica italiana di un periodo. Giusto per? Allora, intanto, oggi parliamo di un film, di un film del 2020, un film che ha proposito Nick, e un film che ha trovato su Prime. Il film in questione è The Dark and the Weak. Che è un film, è un film praticamente che anche questo si presta all'atmosfera politica italiana, perché appunto è il nero e il malvagio, quindi lo scuro e il malvagio per coprire più tonalità, più pantone che piacciono da Giorgia. Faccio solo una precisazione. E poi, no, no, aspetta, no, aspetta, si conforma anche al colore politico, anche per il fatto che anche in questo film c'è una persona che rimane appesa. Detto così, eh, cioè, come... Non solo, ma ci sono anche tante pecore. Eh, no, no, ci sono anche pecore. Quindi il quadro si chiude. Certo, c'è tutto. Se ci date un occhio, comunque molto spesso lo troverete su Rayplay, eh, perché Rayplay lo metto, lo toglio, lo metto, lo toglio. Io l'ho visto su Rayplay. Ah, non lo sapevo. Eh, Rayplay, Rayplay... Allora, del racconto è solo questo aneddoto molto breve. E uno, e allora, il motivo per cui ho considerato questo film è perché era cent'anni che c'eravo su Rayplay, e ho detto, boh, mi chiedevo, non ho mai sentito parlare. Lo guardate, mi sono onestamente abbastanza cagato addosso. Quindi ho detto, c'è, lo porto su carcassa. C'è qualcosa di questo film che mi ha molto, molto spaventato. Però ne parliamo in puntata. Però magari ha funzionato con me, eh. Però, sì. Allora, io quasi quasi apro subito le danze dicendo che, secondo me, è qualcosa che ha a che fare con te. Perché questo film non mi ha trasmesso molto. E aggiungerei, come tutti i film che propone Nick. No, dai. Non scherzo, non scherzo. Però, allora, questo film, ti dico, in realtà, per me ha avuto proprio il problema al contrario. che a una certa, non ho capito che cosa avrebbe dovuto farmi paura. Ma proprio, io questo film me lo sono guardato tipo giovedì. Ed è da giovedì che ci sto pensando. Perché non mi ha fatto assolutamente alcun effetto. Ed è da giovedì che mi sto cervellando su sta roba. Ho detto, cazzo, ma perché questo film non mi ha fatto alcun effetto? Anche perché la tematica trattata è molto, molto interessante. Cioè, l'idea che c'è dietro è molto bella, mi è piaciuta moltissimo. Perché è una tematica molto interessante, molto toccante e sensibile. Perché comunque è una cosa con cui, prima o male, faremo i conti un po' tutti. E se non moriamo prima, intendo dire. Però, alla fine mi sono reso conto che quello che, che questo film non è riuscito proprio a farmi paura. Perché non è riuscito a dirmi di che cosa dovrei aver paura. È talmente conclusionario che io non ho capito quale, quale aspetto dovrebbe spaventarmi, inquietarmi e il perché. Non mi è proprio, non mi è proprio arrivato il messaggio. Vabbè, io direi di partire con una rapida sinossi per quelli che magari non conoscono di che cosa stiamo parlando. E secondo me la dovrebbe fare Nick. Sì, allora, il film ha una trama in realtà estremamente semplice. Cioè, due fratelli, che sono Luis e Michael, tornano a casa dei genitori perché il padre si è ammalato e decidono di tornare perché si capisce che il padre non ne ha ancora molta di benzina. Quindi molto probabilmente sta per morire, insomma. Quando arrivano hanno una reazione estremamente aggressiva da parte della madre che cerca praticamente un po' di allontanarli. Cerca di allontanarli e non si capisce granché del perché la madre ce l'abbia così tanto con loro, se sia una questione di genitori abbandonati a loro stessi, se sia qualcosa di diverso. Il film invece esplora proprio il concetto di qualcosa di diverso e secondo me ha due linee narrative abbastanza separate. Da una parte c'è una tematica sicuramente, come diceva anche Jack, di emancipazione della famiglia di origine, mettiamola così, soprattutto in questa America rurale dove si fanno capire che praticamente non c'è un cazzo e i due fratelli si sono un po' allontanati dalla famiglia e tra di loro perché cercavano di sopravvivere. Dall'altra c'è una tematica un po' più complessa che è quella del male, di un male che arriva, non si fa annunciare, non ti dà grossi preamboli, arriva e praticamente inghiotti e tutto quello lo trova. Come diceva Jack, poi vi lascio parlare, è un film confusionario, cioè è un film che si fa un po' fatica a capire di che cosa si parla, è un film a mio avviso anche abbastanza psicologico, paradossalmente, nonostante abbia un paio di scene visivamente abbastanza aggressive, però sì è un film, la nicca alla fine è un film molto psicologico, perché poi in realtà la cosa che ti dovrebbe far paura paradossalmente è quella che non vedi, è l'atmosfera che ti dovrebbe far paura, è questo male che a differenza di altri film, è un horror o meno, cioè arriva, non sai da dove arriva, non sai da chi arriva, sei solo che è lì e che vuole portare distruzione in tutto quello che trova. Simone? Allora, io devo dire una cosa, secondo me il film ha due chiavi di lettura, o quantomeno ha due piani. Il primo piano è proprio, come diceva Nick, è l'analisi dal punto di vista proprio del classico film horror, quindi quello che ci fa vedere. La seconda chiave di lettura è invece un po' più metaforica, perché il male che ci viene presentato in effetti potrebbe avere una valenza metaforica, inteso come il male che può provenire, che può scaturire da una solitudine, cioè il luogo dove noi siamo proiettati, dove si svolge tutta la vicenda, è un posto senza tempo e senza luogo, cioè potrebbe essere qualunque posto, è un posto totalmente isolato e dove, a parte la famiglia, diciamo quindi il nucleo familiare di cui due i fratelli sono in qualche modo estranei, non c'è altro, se non due soli personaggi che poi fanno una bruttissima fine, che sono l'infermiera e quel vecchietto che li aiuta con l'allevamento, però poi non c'è più niente, quindi è proprio un'assoluta e totale solitudine, quindi secondo me l'analisi di questo film, come dicevi tu Nick, che è un film abbastanza psicologico, può essere appunto splittata su due livelli, quello appunto del film horror inteso come tale, e poi invece sulla metafora che magari è il messaggio che in qualche modo il regista spero volesse dare, anche perché, non l'abbiamo detto, ma in questo film non c'è un cazzo di spiegazione, cioè quello che accade, accade perché deve accadere, ma non viene spiegato, non ci sono spiegazioni, ma anche nel finale stesso non sappiamo perché il male c'è, perché è lì, che cosa vuole in realtà. Quindi proprio per questo la presenza del male, secondo me assume ma tanto una importanza e una valenza metaforica, come qualcosa che appunto scaturisce dall'assoluta e completa solitudine che porta in qualche modo alla disperazione. Se vuoi Jack, io ti posso dire proprio a me personalmente che cosa ha fatto una paura fottuta di tutto il film. La cosa che mi ha fatto paura di questo film è innanzitutto questa atmosfera cupa costante, che c'è questa cappa, cioè anche nelle scene all'esterno c'è comunque una cappa depressiva, cioè pazzesca, cioè c'è tristezza in questo film, c'è distruzione, è un film che non ti dà una possibilità minima di salvezza, di redenzione, cioè non c'è un cazzo, non c'è un modo di salvarsi in questo film, no? Cioè per dirti, mentre in When the Evil lurks, anche se la tematica per certi aspetti è simile, c'è un minimo di spiegazioni, un minimo forse anche di chance che si possa interagire con questo tipo di male, qua no. Cioè qua si è destinato a morire, marciare per qualcosa che poi in realtà, ed è questa la seconda cosa che mi ha spaventato molto, non ti viene spiegato. Cioè questo male qua, di questo film, è proprio un male fine a se stesso, un male aggressivo, un male primigenio, un male che è il male poi quello della vita vera. Cioè a volte ti arrivano dei cazzi in culo giganti senza che tu abbia potuto fare niente o senza che tu abbia provocato questa cosa. E c'è un senso di tragedia, no? Come se ci fosse una spada di Damocle su tutti i personaggi. Perché poi, cioè, questo posto è talmente dimenticato, come diceva Simone, che persino Dio si è dimenticato che esiste questo posto. Cioè c'è una scena dove secondo me è proprio chiara questa roba, no? Ti stanno dicendo guarda che qua ci sei solo tu e il male, non c'è nient'altro. Non c'è niente a cui tu ti possa appellare, non c'è niente che ti possa salvare, non c'è niente a cui tu ti possa aggrappare. Cioè sei destinato a marcire, non si capisce neanche dove. Sì, e tra l'altro ti aggiungo una cosa, su questa cosa che hai detto tu che è stranamente intelligente, che rispetto a quello che ho detto prima io non è tanto la solitudine quella che scaturisce il male e quindi la disperazione, anche perché poi alla fine nel film i protagonisti fanno atti di autolesionismo, cioè non c'è una presenza esterna che ti colpisce, ma in ogni caso sono gli stessi protagonisti che si infliggono il male e non è tanto la solitudine, ora che tu hai detto questa cosa, ma è più che altro legato il male all'abbandono. Cioè più una tematica legata all'abbandono che alla solitudine, perché la solitudine potrebbe essere anche una scelta o quantomeno potrebbe essere anche vissuta. invece l'abbandono è qualcosa che ti fa male, che ti rimane dentro ed è proprio da questo che scaturisce il male. L'abbandono soprattutto è una cosa che subisci, come subisci questo male. Esatto. Allora, io faccio sempre una crociata che era mia, quella del fatto che quando si fa i film sul sovrannaturale bisogna spiegare il meno possibile. E questo qua, questo film è un film che effettivamente fa questa cosa, cioè spiega un cazzo. E questa cosa, secondo me, ci sta. Però il problema di sto film, ed è il motivo per cui io non sono riuscito a trovarmi ci, è che non solo non ti spiega, ma si contraddice. E si contraddice talmente spesso che io non riuscivo a capire che cosa dovesse essere a un certo punto, perché, ok, è talmente inarrestabile, è talmente senza senso, è talmente boh, che fa una cosa, poi ne fa un'altra, poi teoricamente potrebbe fare quella roba lì, ma non la fa, ne fa un'altra, però poi dopo fa anche quell'altra roba, ma perché è così? Che io alla fine non ho capito perché, cioè non che dovesse spiegarmi il perché, ma non ho capito perché dovrei avere paura. Alla certa è un pianoforte che ti gara in testa, c'è da aver paura, e ho capito, però poteva chiedermi in testa un pianoforte, un incudine, quello che è, ma tanto, se io comunque non posso vederlo arrivare, non posso evitarlo, c'è anche poco da aver paura a un certo punto. Ed è questo il problema che ho avuto io su questo film. Allora, sì, concordo, però secondo me la cosa che qua lui ha cercato di fare, però ripeto, è sicuramente un film che ho consigliato io, perché è un film che a me è piaciuto, ed è un film che se ci entra in risonanza, ti assicuro che ti fa paura. e ti fa paura perché non ha speranza. Cioè, a differenza di altri film horror banalmente, dove c'è l'idea di poter sopravvivere al male in qualche modo, no? Cioè, qua in realtà quello che dici tu è vero, ma poi ti porta... Cioè, è come se questi incudini, se questi pianoforti, se questa roba qua alla fine ti mettesse completamente con le spalle al muro e gioisse del fatto che tu non puoi avere nessun tipo di speranza. Cioè, la cosa che a me ha spaventato in questo film è stata che, come verità, questa, perché poi tutti quelli che hanno una speranza comunque alla fine vengono schiacciati in maniera orribile. Cioè, c'è una scena che secondo me è emblematica, che è la mia scena preferita, che è quella che a me ha fatto veramente impressione, che è quella che poi, vabbè, avrete capito tutti, dove c'è una persona che, diciamo, si rivolge a qualcosa che normalmente porta speranza e porta... e probabilmente quel giorno lì stava guardando qualche altro pianeta. Cioè, ti dico, a me è stata proprio questa cosa qua. Forse non è che mi ha spaventato, mi ha demoralizzato nel film. Non so spiegartelo, non era paura. canonica. È però questa idea che effettivamente ci possa essere un male che ti... cioè, perché per dei motivi completamente... È forse un film che ti ridimensiona un po' da un certo ambito di vista, no? Guarda, volevo un attimo prendere un commento che intanto hanno fatto, che è il buon dottor Lecter. Allora... Buongiorno. In certi film... Ah, buonasera, scuola. In certi film una mancanza di spiegazione e di chiarezza dell'immagine spesso porta a ragionare sulle condizioni dell'ambiente in cui agiscono i personaggi e quel male diventa riflesso di fragilità e di difficoltà preesistenti che vengono fuori con impeto. Mi viene in mente subito It Follow. Non capisci perché i mostri ce l'abbiano tanto con questi giovani, però tutto intorno vedi un degrado post-industrial nella Detroit che è molto povera realmente in America. Sì, questa cosa... E ribadisco. A me piace che non venga detto nulla anche perché il discorso dell'abbandono io l'ho sentito molto e secondo me... Io più che quando dicevi te del... Di quello che dicevi te, Nick, del discorso del... della... Come l'hai chiamata la... Non la separazione della famiglia, la... Orca miseria... Non l'indipendenza, l'emancipazione della famiglia. L'emancipazione. Più che dell'emancipazione, questo film, quello che mi ha dato angoscia è invece l'abbandono, quello di cui parlava Simone, perché secondo me quello è veramente angosciante. Però, ribadisco, allo stesso tempo spara talmente tante cartucce, talmente tanto in tante direzioni che io non sono riuscito a... Cioè, è come se uno mi avesse sparato una carica di pallettoni addosso e i pallettoni mi avessero tutti schivato. Cioè, sì, io sarei dovuto essere in quella sala, sarei dovuto essere sparpagliato, ma tanto il caso è stato talmente... Cioè, ha sparpagliato talmente il danno, tanto il danno che io non l'ho sentito. Questa è la sensazione che mi ha dato questo film, purtroppo. Vi faccio un esempio stupido. Io non voglio che nei film mi spieghino che il demone può apparire di notte, però solamente se lo guardi di sbieco e solamente se dici delle parole che iniziano per A. e allora ha il potere di entrati nel sogno in una dimensione parallela, dove tu all'interno di questa dimensione ci sono tutti quelli che sono morti in un tempo frizzato, ma 0,5 secondi prima della realtà, che... No, allora, quelle cagate li a me fan cagare. Cioè, quelle cose da supereroi che ti devono spiegarti da nerd del cazzo, che lo dico io, tra l'altro, ti devono spiegare come funziona il superpotere del mostro, a me fan cagare. Però, se tu mi fai male che agisce nella tua testa, però è anche fisico, però può anche ucciderti fisicamente, però non lo fa, però lo potrebbe fare, però lo fa, lo fa anche, però non lo fa, però lo fa a volte, però a volte ti fa vedere delle cose, a volte non te le fa vedere, a volte ti parla, e a volte ti fa... però ti muove le cose, perché lo puoi sentire arrivare, però se lo senti arrivare... però è legato a un posto, però non è legato a un posto. Cioè, io dico, vabbè, a questo punto, che cazzo l'ho male è tutto? Cioè, vi dico la roba che... una roba che io, su cui ci ho ragionato, e che questa cosa me l'ha fatta un po'... che dico, non l'avesse detta, sarebbe rimasto più misterioso, ma avrebbe... E invece, è un po' il mandare in baccatutto continuando a rimangiarsi quello che ha appena detto. è, ad esempio, la cosa che dicono a un certo punto, eh, ma quella panca, quella cosa che è usato per sollevarsi, lei non avrebbe mai potuto spostarlo da sola, perché non era abbastanza forte. Però se questa entità può fare... può agire nel mondo in maniera così forte, tanto da costringerti a fare delle cose, che cazzo di gusto ha nel fotterti il cervello? Ma è il male. è cattivo, è il male. Eh, ma... Ma ci mette... È un male da bambini, cioè, è un male che... Ho capito, però il male, cioè, approva più soddisfazione e piacere nel farti fare a te quello che vuole che non a farlo lui. Eh, ma poi, ma poi te lo fa fare e poi lo fa comunque lui. Che cazzo di... Cioè, allora no. Allora, decidi di quale cosa ti dà più gusto e fallo. Andiamo sugli spoiler brutali? No, non ancora. Per spiegare un po' questa cosa? No, no, no. Ancora no, ancora no. Se tu ci pensi, in realtà, lui, fisicamente, non fa mai niente, in realtà, eh. Cioè... No, quella roba lì viene detta. Quella roba lì è proprio quello che ti dico io. L'unico... L'unica cosa che loro ti... È l'unico punto in cui loro ti dicono come ha fatto a salire sulla panca e poi a spostare la panca. Ma è l'unica cosa che succede con il tipo lì perché tutte le altre cose che succedono sono manipolazioni mentali. Più il finale. Che è una mer... Cioè, poi non parliamo dopo, nel final. Però la scena finale è una merda fotonica. Cioè, arriva un culmine bellissimo, emotivo, fortissimo, che ho detto cazzo che bello e poi ci sono gli ultimi quattro secondi che mandano in vacca tutto. In realtà no, perché non lo sai? Perché anche lì è un figlio di puttana perché tu la scena finale la senti ma non la vedi. Quindi tu non sai cosa sta succedendo. E se tu ci pensi, il film, quando arriva col pezzo lì, ormai, è una depravazione delle sicurezze dello spettatore. Perché c'è qualcuno che si rivolge diciamo a qualcun altro e si capisce che non funziona. C'è qualcuno che dice ma sapete cosa c'è? Ma lo fa dei coglioni. E non funziona però tu in realtà non lo sai se quella cosa che tu senti è vera o non è vera. Perché lui per tutto il pezzo è da pigliato per il culo e più andava avanti più il male era figlio di puttana. che si presenta in forme diverse prendendo per il culo i protagonisti in maniera spudorata. A un certo punto gli fa proprio capire che quelle poche cose a cui loro si aggrappavano in particolare a quel signore col colletto strano era il gioco del gatto col topo. Per quello che ti dico è vero quello che dici tu però lì di fatto e qua è proprio palese è un male che gode nel tormentare gli altri. Cioè non è come c'è una vita che dice io ti porto il piacere ti porto l'esplorazione fisica faccio delle cose ma qua è proprio una roba diversa cioè spingete a una soglia mentale talmente sottile che poi tu non sei in grado assolutamente di distinguere realtà e finzione. E ti dico sulla cosa della madre ok è spiegata male potrebbe essere tutto però sugli altri se tu ci pensi non sei un cazzo di quello che succede. Poi ti dico non è che lo voglio difendere tutti i costi perché è un film che a me è piaciuto agli altri un po' non piacere però da questo punto di vista qua io ti dico non è un film che si contraddice è proprio un escalation questo male che ti presenta alla fine è un torturatore cioè a differenza di altri mali che tu e che noi abbiamo portato su carcassa no? è un male molto meno finalizzato è molto meno finalizzato su larga scala cioè per dire quello di One Day Will Erks alla fine aveva una finalità cosmologica se tu pensi a quella di Elol alla fine è Satana che ha tutto un piano per fare tutta una roba per arrivare all'apocalisse bussa nella porta c'è comunque una finalità cosmologica universale qua teoricamente tu non sai neanche se questa è Satana o chi cazzo cioè questo potrebbe essere un'entità demoniaca che noi definiamo come demoniaca ma potrebbe essere un'entità semplicemente corporea che quel giorno lì non sapeva che cazzo fare e si è messo a rompere il cazzo a quattro stronzi perché gli girava così perché lo poteva fare e per quello che ti dico a me questa cosa qua un po' mi ha un po' mi ha cincinato un angosciato però ti ripeto io spesso sicuramente sono di parte quindi lo difendo però ti dico anche sul finale neanche a me è piaciuto perché l'ho trovato paraculo però in realtà è un finale che può essere in linea con le manipolazioni che ha subito fino a quel momento di uno spettatore perché tu di fatto non sai se è quello che stai a vedere cioè più tu vai avanti meno si capisce la realtà dov'è e la manipolazione dov'è tant'è che la scena prima è quella che tu dici tu tu ti fai tutto un trip e poi invece ne manco per il cazzo e anche lì non c'è una costruzione cioè tu non vedi mai nessuno cioè a differenza dei film horror di serie quelle che hanno fatto alla Lidl dopo l'esercista dove tu vedi per forza la vittima che ti dice ah mio Dio no non voglio morire questo che gli taglia la gola tipo quella puttana di The Believer purtroppo qua c'è proprio una a un certo punto c'è proprio una scena che è quella che è piaciuta più a me dove si capisce che c'è proprio una sovversione completamente da la persona tant'è che magari quella lì è anche convinta di cioè in quel momento è convinta di starsi per salvare e dice no a me questa è la roba che ha angosciato terribilmente nel film che poi alla fine è proprio la casualità capito cioè quella roba lì è spuntosa se ci pensi che fa un po' paura che questi sono sperduti nel culo del mondo succede qualcosa che decidi di riderlo al suolo senza spiegarsi senza comunicare cioè alla fine l'unica comunicazione che ha questo male con loro è pigliarli per il culo punto e basta e fargli capire che non contano un cazzo guarda me lo stai facendo un po' rivalutare perché in effetti sì allora se se prendi anche il finale come una presa per il culo dello stesso spettatore perché anche lo spettatore non sa effettivamente se quello è vero oppure è è in effetti sì però appunto ribadisco secondo me stai sparando talmente tanto in tutte le direzioni che che dischi non c'entra neanche una è quello che un po' mi ha dato ho dato la sensazione a me però capisco cioè forse con quella con quella lettura lì assolutamente cioè interessante cioè ti dico secondo me è un film che non cioè citando il film preferito della nostra buonanima è un po' come un po' come boys the trade cioè alla fine è un film che o ti risuona o ti fa cagare questo per dirti per il tipo di persona che sono io che sono uno che magari a cui per il tipo di testa che ho piace progettare mi piace immaginare mi piace crearmi un progetto un piano cioè l'idea che arrivi a qualcosa così completamente fuori controllo che sovverte completamente le tue convinzioni e tutto il resto è terribile ed è un film ripeto dove se tu ci pensi rispetto alla non c'è una non provano neanche affrontare questo male alla fine cioè c'è chi fugge e c'è chi si rassegna come dici tu non c'è non c'è dei due protagonisti non ce n'è uno che dice facciamo qualcosa per vincere cioè sono disintegrati secondo me nì in realtà cioè ognuno affronta a proprio modo ognuno cerca di dare una lettura una spiegazione che poi in realtà fallendo perché appunto questo male sta giocando con loro e c'è quello che appunto cerca di reagire una forza anche la spiegazione del diciamo del prete era una spiegazione che loro volevano sentire loro volevano avere una spiegazione in realtà no cioè è una presa per il culo e a te Simone questo film è risuonato allora ti ho detto sì sì allora ti dico non è uno dei miei film preferiti quello è poco ma sicuro però devo dire che è costruito è costruito bene l'atmosfera secondo me regge dall'inizio alla fine poi i protagonisti sono bravi è girato bene tutto funziona non ci sono grossi strafalcioni sia dal punto di vista tecnico che narrativo se lo si legge in una determinata ottica per cui a me alla fine sì il film devo dire che è piaciuto l'ho trovato forse non lo so forse in alcuni momenti poco coraggioso ma non dal punto di vista visivo perché in questo film ci sono delle delle scene forti forse avrebbe un po' dovuto un po' più spingere su quello che che in effetti voleva voleva far capire e secondo me il finale è più che fa cagare secondo me un'occasione mancata perché il finale sarebbe potuto diventare forse la parte migliore del film non dico dando una spiegazione ma dando forse un senso mentre quella scena finale dopo che in qualche modo questa entità maligna che poi alla fine non si capisce bene bene cosa in effetti sia agisce in un determinato modo poi alla fine invece agisce in un altro modo quindi secondo me un po' si perde sul finale ha una sua logica quello sì però secondo me veramente il finale avrebbe potuto dare veramente un senso un senso di completezza a tutto il film comunque a me è piaciuta tanto sì l'atmosfera questo questo posto totalmente sperduto questi personaggi che sono veramente privi di qualunque tipo di speranza di possibilità di salvarsi ma proprio dall'inizio alla fine è anche un po' il senso di angoscia che questa situazione ti 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 trasmette in effetti è funziona sicuramente funziona poi ho detto secondo me avrebbe potuto essere un po' più più incisivo in alcuni momenti in determinate in determinate scene però tutto sommato secondo me il film funziona per quello che per come è stato costruito per quello che voleva trasmettere funziona io poi tra l'altro non conosco il regista e non so neanche se ha fatto o non ha fatto altro non so se è un'opera prima ha fatto The Strangers ha fatto The Monster ah ok aspetta ma è quello della macchina se non sbaglio con l'incidente in macchina che c'è il mostro li confondo no aspetta The Stranger era quello della casa se non mi ricordo male chiusi dentro la casa l'altro che aveva fatto lui Monster secondo me era quello dove compaiono i mostri aspetta fammi controllare andate avanti voi che ve lo cerco che se non mi ricordo male era quello dove poi avevano fatto il seguito allora mentre Nick parla io parlo con Jack invece di un aspetto tecnico di questo film volevo un attimino chiedere una roba io allora comunque di Monster sia quello che ho visto che non era male molto interessante come non mi aveva colpito granché ma era interessante come concept più che altro volevo chiedere a voi un po' di delucidazione delle cose che non ho capito molto nel film proprio a livello di contenuto allora intanto il discorso tutto il discorso del prete allora alla fine lo so che è un minor spoiler però direi che a questo punto possiamo anche andare un pochettino più nel vivo salve 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 ho arrivato un po' di gente ciao notte e allora non l'ho visto solamente io ho detto a letto quel film allora andiamo un attimino un po' nel dettaglio del prete perché alla fine sto cazzo di prete c'era non c'era era una cosa diversa era una persona diversa voi come la vedete allora vuoi andare tu sì allora secondo me il prete non c'era cioè il prete non esiste come personaggio ma così come altri personaggi non esistono la bambina che va ad annunciare la morte del nonno non c'è non esiste ma aspe aspe il fatto che ti volevo lì infatti scusami ti blocco carta trappola se non c'è quel cazzo di prete le croci che cazzo non servono cioè sto coso può anche fabbricare cose da nulla sai baba che crea le cose da nulla ma scusami quali croci no ma aspetta non esiste come come essere umano ma tu non esiste aspetta non esiste fisicamente materialmente cioè è un'immaginazione oppure non esiste perché non è un essere umano no allora tu mi stai dicendo che questa entità può essere fisica può prendere le fattezze di chi vuole e può creare cose dal nulla esatto è il male è il satana è il demonio è cazzo ho tutto ho tutto e no non può un cazzo non può un cazzo scusami c'è un conto è ma perché dal nulla ma scusa perché dal nulla le ha comprate in un negozio cioè allora il signor male è andato scusami mi può fare la fattura ma c'è una panita di scarico ma dai ma per favore ma dai Jack dobbiamo andare a cercare il pelo nell'uovo dai allora ti dico la mia teoria questa cosa unita ad altre situazioni unita alla panca che non si poteva muovere e si è mossa unita al finale sono tante cose che cazzo a un certo punto mi sono detto vabbè allora c'è che cazzo però Jack ha una logica ho capito però ha una logica perché il film non ti spiega un cazzo quindi ha una sua logica cioè quello che succede tu non sai perché succede non sai perché il male l'ha non sai che male è non sai che cazzo vuole perché ce l'ha con questo cazzo di famiglia tu non sai niente quindi ci sta che succedono cose che tra virgolette non hanno senso così come quei quella specie di di amuleti che avrebbero dovuto servire a a a trattenere il male cioè ci sono delle cose che in effetti dal punto di vista logico non funzionano però questo film non punta su quello cioè non c'è una una struttura logica in questo film ma ma e credo che questa onestamente è una delle cose che mi è piaciuta di più del film nel senso che non non il film non è logico non c'ha una storia dove tutto deve funzionare dove tutto è collegato è è basato esclusivamente sul malessere sulla inquietudine sull'insoddisfazione proprio sul sul male che è interno a questa famiglia che che è interno a que ai protagonisti di questa storia e e quindi è forse una proiezione del male che fanno loro stessi quindi il il fratello lo materializza e lo vede in un modo la sorella lo materializza e lo vede in un altro modo la madre lo materializza e lo vede in un modo ancora diverso è la loro proiezione del male perché il male alla fine e lo dice lo il pseudo prete in un in un momento il male alla fine è là dentro il male non è fuori il male è là dentro ed è dentro di loro e probabilmente è dentro loro quindi quello che noi vediamo secondo me si potrebbe anche immaginare però anche là sono supposizioni come se fosse una proiezione di quello che hanno loro dentro quindi ci sta che le cose poi alla fine non funzionano perché è una proiezione del male che fanno i vari protagonisti compreso il padre alla fine quindi potrebbe essere non lo so potrebbe essere anche questo una chiave di lettura io ti dico io personalmente rivalisco ci sta quando crea il mistero ma quando poi comincia a contraddire tutto a me mi cade un po' il motivo per cui a questo punto avrei aver paura cioè è semplicemente quello che dico io cioè a un certo punto questa roba è talmente irragionevole e irrazionale e funziona neanche che funziona con logiche con logiche aliene è proprio è totalmente fuori l'unica cosa che fa praticamente è quella di di spingerti a suicidarti però come lo fa il livello anche fisico se ti entra nella mente se c'è davvero se non c'è davvero se c'è fisicamente se non c'è fisicamente quello è totalmente è tutto fuori di testa e il fatto è che però è talmente tanto ribadisco è talmente cioè la spada talmente ampia che a un certo punto io non capisco neanche di cosa dovrei aver paura perché tanto il punto è basso il punto basta non suicidarsi non ho capito cioè perché tanto alla fine il discorso è quello no no aspetta 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 no non puoi dire basta non suicidarsi perché io ti rispondo sulla mia secondo me il prete in realtà all'inizio c'era pure la logica del male di questo film è che a un certo punto il prete addirittura gli fa un discorso e gli dice guardate io ai vostri quando il prete rivela la sua natura a un certo punto gli dice addirittura guardate che i vostri genitori erano da soli loro erano completamente da soli e questa cosa non l'ho fatta io e quindi hai questa entità di male supremo che ti dice siete figli di merda a modo suo no ma quello non è il prete appunto aspetta quello non è il prete è lì che voglio arrivare io può essere pure che il prete all'inizio quando tu non lo vedi ci fosse e che può essere che la madre davvero all'inizio terrorizzata si sia rivolta a un prete solo che poi a un certo punto questo prete probabilmente è morto pure lui se mai è esistito perché può essere pure questo perché lo scopo di questo male se tu ci pensi è prendere queste persone fargli credere di avere un punto di riferimento ma poi in realtà questo punto di riferimento loro non ce l'hanno a un certo punto lui gode della stessa solitudine perché se tu ci pensi tutti i punti di riferimento di questi personaggi glieli secca il tizio che le aiuta muore in una maniera orribile e manda una nipote a dire sì guarda che mio zio si è sparato mio zio mio nonno si è sparato in faccia e poi gli racconta tutta questa cosa molto creepy degli ultimi momenti di lui della testa esplosa eccetera eccetera il prete può pure essere che ci sia perché se ti ricordi la mamma ha un diario dove racconta di questa discesa la follia e tu più vai avanti più ti accorgi che lei praticamente sta sbroccando quindi tra se lo osserviamo da un punto di vista pertanto sovrannaturale qualsiasi cosa sia questa creatura comunque il suo obiettivo non è suicidarli come dici tu cioè non è che se tu sopravvivi allora vinci no il suo obiettivo è torturarli il suo fine ultimo non è farli morire il suo fine ultimo è godersi tutto il dolore che lui gli può portare tant'è che se tu ci pensi l'altra figura che religiosa che a un certo punto gli dice sì io credo in Dio quindi se credo in Dio devo credere anche al diavolo ma lo fa con una visione cattolica molto genuina del cattolicesimo che ti dice sì se tu credi in Dio c'è anche il diavolo ma si sono scontrati uno è finito all'inferno Dio gli ha fatto un buscio di culo così perché lui è più figo più forte e Lucifero alla fine è passato da portatore di luce a satana il grande nemico perché gli ha fatto un culo così in realtà pure quella lì fa fine di merda convinta di salvarsi perché poi c'è anche la presa per il culo Jesus loves you è per quello che ti dico il punto non è quello che perché probabilmente come dici tu cioè io stavo pensando una cosa se tu ci pensi se tu togli l'aspetto demoniaco questo potrebbe essere un vampiro di alto livello di Dungeons & Dragons paro paro non deve essere proprio forza un debole ma assolutamente ma tra l'altro scusatemi un secondo sì sì assolutamente è interessante ma non so anche un vampiro di mondo di tenebra di quelli però non della non della camarilla di quelli vampiri veri i vampiri seri sabbat forever mentre invece no l'altra roba che io volevo chiedere scusatemi perché davvero certe cose probabilmente mi sono sfuggite per trama e volevo capire se mi sono sfuggite questa comunque è una lettura interessante del personaggio che magari all'inizio era davvero un prete e poi l'entità l'ha utilizzato per i suoi scopi e ci sta perché lui spiegherebbe sia perché ci sono delle le crocette vere e e così via altra cosa è ma questa mi è sfuggita della trama aiutatemi voi a capirla a un certo punto lei chiama il numero di telefono non ho capito il numero di telefono di chi era chi è che gli ha avuto quel numero io per quello che ho capito io e per questo dicevo che secondo me il prete non esiste è che lei ha chiamato al prete infatti lei quando lo chiama dice ma ci siamo visti ieri sì ma anche quello che lui dice del discorso mia figlia si è suicidata tu hai la stessa voce che cazzo cioè lì ho detto lì ho detto cazzo qua mi sono perso qualcosa perché questo cosa dovrebbe dirmi cosa vorrebbe significarmi questa cosa cioè in che modo dovrebbe questa cosa spaventarmi mettermi in quietudine cioè perché anche lì c'è un abbandono cioè anche lì questa entità rinfaccia al padre di non essere stato un padre presente e di non aver mai veramente aver voluto essere un padre e aver provato a salvare sua figlia tant'è che quando lui vedrà figlia aspetta cioè quindi al telefono lei sta parlando con suo padre no allora tu quando tu dici l'altra che si vede l'altra l'altra bambina intendi quello del intendi la ragazza la telefonata allora la telefonata lui lei scusami a un certo punto si convince che c'è qualcosa di di brutto in casa e lei in teoria sta chiamando il prete come diceva Simone ma in realtà il demone anche se era chiamiamolo demone o quel cazzo che era in realtà la sta già pigliando per il culo e dice no ma noi ci siamo visti e la lascia lì proprio per far complicare ancora di più sta cosa tant'è che poi c'è il dialogo col fratello che dice strano sto prete cioè è un tipo strano non si capisce perché pensava perché all'inizio pensavano che il prete stesse manipolando la madre sì no allora quello ho capito no no ok ma la telefonata perché dovrebbe spaventarmi dovrebbe inquietarmi dovrebbe dire qualcosa che mi fa suonare un campanello e dico oh porca puttana che cazzo è successo perché si fa capire perché alla fine ha chiamato ha chiamato ha chiamato un perfetto sconosciuto che gli ha detto delle cose e gli ha detto sì ma lei ha chiamato ok ma lei ha chiamato il numero ma lei ha chiamato il numero che gli aveva dato il prete quindi è come se quella è la dimostrazione che il prete non esiste sì ma sì ok ok ho capito ma ma la discorso no perché mia figlia si è suicidata mi ricorda la tua voce scusami ma c'è una storia che mi sono perso che doveva essere inquietante perché non l'ho collegata cioè è quello che vi dico io è un personaggio quel personaggio che risponde al telefono è qualcuno che c'entra con la storia che quindi avrebbe dovuto essere inquietante oppure è una storia che non è inquietante di per sé che non gli è riuscita granché bene perché a me cioè o mi sono perso il collegamento oppure non ha funzionato proprio per me no la voce a un certo a un certo punto la voce diventa quella del tizio che si è sparato è per quello che lei poi muove giù il telefono perché la voce la voce esatto a un certo punto diventa quella di Charlie che è quello e perché la voce mi ricorda ti ricordo la voce perché Charlie se tu ti ricordi quando viene ucciso la visione che lui ha è quella di una ragazza piena di cicatrici che gli dice che lui non riesce neanche a guardarla e che lei gli dice non deve mai fare un cazzo io mi sono ammazzata quindi è come se lei cercasse il prete non solo non prova il prete ma sta parlando il telefono con il morto no ok ma ma perché lui le dice la tua voce mi ricorda quella di mia figlia perché era una cosa che diceva Charlie all'inizio e all'inizio del film che le fa capire che si somigliavano me la sono persa allora cosa che le dice è che praticamente le dice che si somiglia alla figlia che è che però non ti dice che è che è morta la figlia tu lo scopri nella scena dopo cioè quindi dice almeno ti viene mostrato poi magari non è neanche vero come le figlie del fratello scusate non dovevo dirlo prima di dirgli spoiler vabbè comunque sì cioè è un film poi ti ripeto io lo capisco cosa intendi però il film è tutto un film di manipolazione ok cioè c'è un qualcuno che si diverte a torturare psicologicamente le persone fino a farle sbroccare perché gli gira però però tipo quella scena lì mi dice che c'era stata una scena all'inizio dove lui le aveva detto tu mi ricordi mia figlia tipo all'inizio del film c'è una mezzalinea che poi il regista ricollega quella roba lì e te la fa vedere però quando lui è a ruot compare la tipa completamente sfregiata che c'è lui che non riesce mica a guardarla allora quella scena me la sono proprio me la sono proprio fatto bene a chiedere spiegazioni mentre invece volevo sentire cosa diceva Simone a livello tecnico prima che l'ho interrotto fortissimo perché volevo capire queste cose ah sì a livello tecnico voglio dire ne parlo con entrambi allora il film si gioca tutto appunto su questa atmosfera di inquietudine e di angoscia mostrando a volte delle immagini abbastanza forti però senza diciamo calcare troppo la mano poi invece ci sono un paio di scene due o tre dove vengono usati proprio dei veri e propri jumpscare ce ne sono ce ne sono un paio che ho avuto un jumpscare qua in casa è arrivato il male c'è il prete c'ho la gatta che mi sta guardando inquietantissimo non lo so parlate parlate io intanto controllo se non c'è nessuno se non c'è nessuno in casa no quindi non lo so premesso che funzionano perché funzionano perché fanno il loro porco effetto però non lo so mi sono sembrati un po' un po' fuori luogo nel senso per come è costruito il film per quello che vuole trasmettere per l'atmosfera e le sensazioni che da quei boo all'improvviso non lo so mi sono sembrati un po' fuori luogo premettendo che appunto funzionano funzionano perché a me hanno fatto effetto guarda ti dico a me a me in realtà non non hanno fatto molto effetto i jumpscare quello è stato un altro problema del film per me cioè che vuole fare l'horror classico a tutti i costi dove compare la madre morta alle spalle e lo vediamo solo noi perché neanche lui la vede solamente per il gusto di spaventare lo spettatore e a me quelle robe lì fanno paura come un pezzo di velcro perché mi hanno rotto i coglioni da tipo 25 anni che queste cose ci sono nell'horror e ormai non mi fanno più paura hanno un po' cagato il cazzo anzi dirla proprio in italiano quindi quello secondo me è stato un altro problema del film che quelle parti di a me personalmente hanno annoiato perché jumpscare jumpscare mio però anche lì purtroppo può suonare io comunque vi dico la verità parlandone con voi a livello di storia lo sto rivalutando parecchio cioè probabilmente me lo dovrei rivedere con l'ho sottovalutato magari questo film e dovrei riguardarmelo un po' con con un po' più di cioè con queste idee un po' nella testa magari no allora è assolutamente vero che questo film fa un po' quel cazzo che vuole e a volte se ti distrai in mezzo secondo è già partito e quindi è anche vero che è un film estremamente confusionario però secondo jumpscare secondo me ad esempio ti dico i jumpscare in sé e per sé non vanno spaventati devo essere onesto però la scena della madre che lievita quella roba lì quale scena funzionavano quella roba lì non l'ho digerita benissimo essere sincero perché ma perché ti dico non avevo paura che uscisse il jumpscare da lì ma perché proprio a un certo punto hai detto ok ma ma che cazzo ancora sta succedendo allora il punto è proprio quello secondo me i jumpscare a me hanno anche un po' rotto i coglioni soprattutto quando nei film dove se ne abusa o dove sono inutili perché a volte è più più tanto una roba tipo quella che ho appena visto adesso con la gatta che stava fissando un angolo buio di sta cazzo di casa non ho capito perché e questa roba mi fa più paura che vedere uno che mi salta fuori perché se uno mi salta fuori i bulli tira un pugno in faccia e va a fanculo però se vedo la gatta che fissa il vuoto per un minuto e poi se ne va quello mi mette paura capito? e tipo la scena della 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 madre che che vola cazzo quella mette la roba no ma infatti io proprio per questo te lo dicevo perché a me sono sembrati fuori luogo i jumpscare perché secondo me in questo tipo di film non servivano cioè non c'era bisogno di di inserirli io ti dico a me sto film un po' come come atmosfere ma cioè solo come atmosfere ha ricordato per certi versi Agassuza quello della della strega cioè questa casa isolata queste cose che succedono e che bene o male non hanno una spiegazione logica questi personaggi che non sai mai se sono veri se sono reali però in Agassuza appunto non c'è jumpscare non c'è non ci sono è tutto giocato sul sull'angoscia che ti crea quel tipo di atmosfera per questo io ho detto che io li ho trovati un po' fuori luogo perché secondo me il film avrebbe funzionato anche senza questi jumpscare forse avrebbe funzionato anche meglio sono d'accordo con te assolutamente c'è Nick che sta facendo una faccia però molto scura no perché in realtà allora a me il film è piaciuto ovviamente l'ho consigliato però ci sono due roba che mi hanno fatti girare i coglioni profondamente del film visto che a questo punto stiamo giocando proprio a carte super scoperte la prima che è un film come dicevi tu secondo me che sceglie tutta una linea narrativa sceglie anche una certa estetica però poi a un certo punto non ha il coraggio di prendere una linea e il finale da questo punto di vista mi è piaciuto però puzza di codardia cioè a un certo punto almeno lì dovevi dire ok prendo una strada tra i mille di e mille ombre ti ho fatto vedere e te la faccio vedere la seconda cosa devo dire la verità a me jumpscare non è che alcuni sono anche ben fatti ad amore di dio però le ho trovati inutili nel contesto cioè le ho trovati concettualmente sbagliati nel contesto se tu mi fai un film allora in Megan tu i jumpscare me li puoi fare perché è un film che fondamentalmente è una linchiata non è un film serio quindi ci sta in Malignant me li puoi fare i jumpscare perché è un film che si basa su quello in questo film qua se tu mi fai i jumpscare mi fai girare il cazzo perché hai fatto un film con un certo ritmo con un certo e poi a un certo punto come se nel bennazione della tragedia greca mi fai vedere quello che scoreggia con le ascelle mentre c'è il deus ex machina che si faccia in tutto quella roba mi ha fatto incazzare che ammetto è una cosa che mi ha fatto abbastanza girare i coglioni anche perché funzionano ma lì perché ci sono delle scene che secondo me fanno molto più paura quando lui vede la madre che levita per dire la scena della carota cioè che quella scena mi fa veramente schifo al cazzo ma perché è immisurabile cioè non è che ti fa schifo perché cioè ma perché lo sai che sta per succedere non ci può fare un cazzo e lui lì non è che ci va piano perché poi rondella cioè è proprio precisa quella roba lì è una sofferenza da vedere quindi ti dico da quel punto di vista lì io ti do ragione è un po' democristiano su alcune cose sto film questo cioè vuol far contenti un po' tutti ecco quello sì su questo ti do assolutamente ragione ok allora abbiamo anche già parlato del finale un po' di tutto voi volete dire qualcosa di ultra spoiler che vi siete tra tutti fino adesso oppure abbiamo detto un po' tutto no abbiamo detto un po' tutto un po' tutto e credo che siamo tutti e tre sulla stessa linea perché bene o male quello che non ci è piaciuto è condiviso quello che ci è piaciuto secondo me anche quindi forse una delle pochissime volte dove siamo tutti d'accordo su tutto e io pensavo che ci saremmo ammazzati perché io ero partito subito con questo film mi è piaciuto poco in realtà poi parlandone con voi penso che ci siamo un po' un po' trovati tutti anche io un po' magari un giorno non lo riguardo questo film gli do una seconda una seconda chance di la do e scena preferita dai dai io sono combattuto voi cosa dite? allora secondo me ci sono due cose c'è la scena preferita e secondo me la scena che funziona meglio perché la scena secondo me che è proprio per come è costruita per come è fatta che funziona meglio è quella senz'altro delle dita quella quella sicuramente anche perché è bella lunga cioè non è non è un attimo però ti devo dire che a me come invece come cosa che scena preferita mia personale e forse anche per proprio per l'immagine stessa è l'apparizione del padre nella doccia da parte della figlia davvero? sì sì mi è piaciuto proprio il no no ma mi è piaciuto proprio visivamente esteticamente e come è stato reso il padre no ma quella proprio mi è apparsa una poracciata proprio buttata l'aria sai che anche a me ha dato un po' fastidio la scena lì ma non in senso tuo di Jack ma in senso di Simo perché è proprio sporca in realtà con la scena nella poraccia è proprio sporca perché perché poi è applicata bene perché tu non sai se è una visione non sai se è un flashback non sai se è una cosa che sta arrivando cioè è bruttarella allora ti dico le mie io ho due scene preferite questo film che sono la morte del fratello perché quella roba di Terri è cattilissimo quella è cattiva 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 proprio cattiva ti arriva come la cazzo di fucilata anche perché praticamente cioè non te l'aspetti anche perché anche nelle regole del gioco io pensavo ok lui se ne va dalla casa va beh si è salvato si è salvato se cazzi della sorella vivrà con rimorso invece no si fa trovare morte dai figli però la scena che secondo me è proprio la più triste è la morte dell'infermiera poverina quando c'è lei che si pugnale quella è stata la mia scena preferita perché perché davvero lì il discorso è proprio quello cioè lei lì vedi proprio anche lei convinta no perché la mia fede mi salva la mia fede ti salva la tua fede non ti salva sto cazzo proprio anzi è proprio quella che lei dice ah sento la voce di Gesù Gesù mi chiama ma è poi bellissima in quella scena è bellissima la voce che si sente Gesù ti ama continuamente Gesù ti ama Gesù ti ama bellissima allora sai perché a me quella scena mi ha lasciato di merda però perché bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare perché in realtà a lei l'infermiera cioè non è un estremista cattolica come ti aspetta in Texas cioè lei poverina è buona davvero cioè quando lei fa tutto il discorso su Dio il diavolo l'amore eccetera eccetera lei è l'unico personaggio che di fondo c'ha 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 un briciolo di speranza che le deriva proprio a questa visione genuina della bontà di Dio del fatto che lei dice anche cioè voi avete abbandonato i vostri genitori tutto quanto bla 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 però non è che finirete all'inferno siete dei bastardi tutto quanto no no cioè fate in modo che non muoiono da soli che cioè nel senso è per il perdono nel senso anche lei dice adesso fate qualcosa per loro adesso vi siete resi conto e cercatevi cioè non è giudicante in questo anzi è di supporto cioè è sempre e fa una fine da stronza proprio quella è la cosa pesante sì anche perché l'audio di quella scena parte la voce ma quando tu senti stonk 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 alla fine si ferma solo solo perché è morta cioè è proprio una roba che lì proprio capisci che è l'anima che se ne sta andando lei non ha più la forza di martoriarsi questa è proprio una roba che mi ha spezzato mi è sempre più di massimo male bella dai l'abbiamo svisciato sto film e sono contento di averne parlato con voi perché se no l'avrei messo in un cassetto l'avrei dimenticato sto film invece questo qua è un cassetto da cui ripescherò prima o poi per cui sono contento di averne parlato con voi e sarei curioso sentire anche appunto chi non ha visto questo film ci contate se lo scopri grazie a noi vorrei sapere che cosa ne pensa cosa ne pensa anche il pubblico se abbiamo magari preso un abbaglio oppure no e quindi Nick questo c'è ti ringrazio del film che hai proposto ci stava è nata una bella discussione voi ultimi pensieri eh dottor letter adesso ti tocca vederlo anche te poi ci fa sapere cazzo però hai raccontato tutto no dai sì però allora questo qui devo dire che è uno di quei film che però bisogna vedere nel senso che tu ne puoi parlare lo puoi raccontare però per vivere appunto l'atmosfera perché ripeto l'atmosfera è costruita veramente molto bene bisogna vederlo se no non non riesci ad entrarci ad entrarci dentro sì questo sì questo sì concordo no allora sono contento di averlo visto con voi e di averne parlato con voi anche perché è un film comunque strano questo può piacere può non piacere però è un film secondo me particolare e sono contento eh anche del del fatto che sia un film che non è accaduto nel nei moralismi che abbiamo visto in film di possessione mettiamola così eh più recenti sì sì assolutamente sì sì cioè a sto giro gli Avengers avrei voluto vedere gli Avengers esorcisti in questo film no ma anche perché ho anche perché Nick da un punto di vista puramente tecnico non è un film di possessione no tecnicamente non c'è possessione c'è una presenza ma in effetti non c'è possessione no no e non solo alla fine noi comunque l'abbiamo chiamato Demo per tutto il film ma in effetti anche quello ma anche ma anche Vampiro funzionava cioè è il male è il male potrebbe essere qualunque cosa è qualcosa di male sì bello bello dai allora io ringrazio intanto la chat ringrazio chi ci ha seguito ringrazio chi recupererà la puntata e fateci sapere cosa ne pensate di questo film mettete un like ovunque voi state guardando questa puntata o ascoltando questa puntata perché io quest'anno vorrò rompere i coglioni a tutti perché ragazzi continuo a dirlo noi abbiamo dei progetti vogliamo fare delle cose abbiamo bisogno del supporto almeno dei like ragazzi abbiamo bisogno almeno del supporto dei like delle view almeno abbiamo un po' di una leva che utilizzare per fare poi dei progetti gustosi che se riusciamo a fare vedrete sarete tutti molto più contenti però è ovvio che finché rimane un canale da da dieci iscritti la nostra la nostra parola vale poco soprattutto se vogliamo portarci da qualche parte e comunque ringrazio tutti tutti quelli che finora si sono stati si sono stati ospiti da noi che si sono trovati benissimo perché davvero è un piacere comunque riuscire a avere avuto soprattutto l'onore di portare degli ospiti comunque anche in un certo livello per cui però se vogliamo fare di più abbiamo bisogno anche del vostro supporto per cui ragazzi dateci sotto per cui like mi piace andate su youtube iscrivetevi al canale iscrivetevi su twitch seguiteci su instagram noi comunque pubblichiamo anche un sacco di cose almeno rimanete anche aggiornati sulle puntate che facciamo rompeteci coglioni diteci commentate 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 il video commentate le puntate fateci sapere qualcosa e e quindi ultima cosa ribadisco se volete mi faccio ancora pubblicità ancora una volta perché ho ancora qualche copia ho scritto un libro per bambini che parla di paura se lo volete 10 euro più la spedizione e vi arriva a casa per cui contattateci ragazzi noi vogliamo parlare con voi e vogliamo anche che voi parliate con noi per cui dopo questa io ancora ringrazio tutti quanti gli ascoltatori e ringrazio tutto i miei colleghi che sono qua uno e due per cui un saluto da Jack un saluto da Simone buonanotte a tutti un saluto da Nick fateci diventare virali come la Candida a 16 anni dai fate bravi completamente a casa buonanotte a tutti esatto no a figa a figa buonanotte a tutti ragazzi anzi carcassi potrescenti ciao 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 scusate mi non stai pari un bander lint stau scurit